Ragazzi siamo finalmente giunti all'uscita del nuovo singolo di Jaden Vi lascio qua sotto in descrizione il link del video che è sul canale dei Mates Il link della canzone da sentire su Spotify Adesso guardatevi 30 secondi di trailer e dopo tutti a corsa a vedere il video originale Questo è il nostro progetto per quest'estate Speriamo che vi sia piaciuto Mi raccomando streamatelo A più non posso condividetelo con chiunque Vi ricordo che stasera alle 18 ci vediamo con un nuovo video sul canale Purtroppo noi siamo alla fine della vacanza Quindi ci rivedremo presto anche a Milano Vi saluto, quando sempre è tutto No, ste, con le scarpe no 50.000 like ci mettiamo con le scarpe